Ma guarda, ti dirò, mi sembra più solida rispetto alle altre, Battistrada si è consumato pochissimo e l'intersuola essendo di una mescola un po' più dura rispetto a quella della Clifton o delle Rincon. Dice un famoso proverbio che il progresso umano è stato caratterizzato negli anni da un forte senso di avventura e da pensieri non propriamente convenzionali. E se dovessi parlare di questa Rai 5 di Oka direi che in effetti sono sicuramente molto diverse rispetto alla tradizione di scarpe A4 che offrono invece un controllo antipronazione. Ma per capirlo, come al solito, veniamo alle specifiche 269 grammi, drop 5, 35 mm nel tallone, 30 mm nell'avampiede, una base assolutamente molto ampia che permette una stabilità che chiaramente è necessaria nel caso in cui ci rivolgiamo a podis iperpronatori che hanno bisogno di avere una stabilità superiore rispetto a quella dei podisi normali. Non chiamerei però queste Arahi A4 nel vero senso della classificazione ufficiale perché secondo me rappresentano una scarpa leggermente più leggera, molto ammortizzata e con una stabilità che definirei moderata, intrinseca nel design della scarpa stessa. La Tomaya rispetto alla versione precedente è stata aggiornata, sembra abbastanza semplice, in mesh, ingegnerizzato e comunque ben avvolgente. La rete a doppio strato si allarga bene e rende il piede particolarmente coccolato. I laci si allacciano facilmente rispetto alle Clipton 8, hanno la stessa fattura ma sono leggermente più corti. Il tallone ha forma affusolata, il piede comunque si adagia perfettamente alla scarpa e nel complesso direi che è sicuramente molto bloccato e vi sentirete particolarmente a vostro agio anche se ovviamente è particolarmente rigido perché deve offrire una stabilità superiore rispetto alle scarpe neutre che invece non hanno necessariamente bisogno di una stabilità importante. La linguetta attaccata a entrambi i lati della Tomaya è abbastanza imponente e comunque vi offre un conforte gradito per il collo del piede. La Tomaya nella parte laterale è particolarmente sottile e questo vi consente di avere una traspirabilità molto importante ma al tempo stesso un bloccaggio del piede comunque relativamente saldo grazie anche alla costruzione con i rinforzi laterali presenti su entrambi i lati. E qui torniamo alla scelta non convenzionale quella di adottare da parte di Oka quello che si chiama e gli affigionados lo conoscono bene il J-frame ossia una struttura a eva che ha densità diverse che consente quindi di ridurre l'instabilità della scarpa stessa e permette quindi al podista amatore anche iperpronatore di correre in maniera più efficace. Questo meccanismo J-frame è stato adottato su tutta la parte laterale, mediale e anche nel posteriore e permette quindi una transizione bilanciata. Al tempo stesso la stabilità non è garantita solamente dal J-frame ma anche dal tallone smussato oltre come ho già detto dalla diversa densità delle schiume se non dal tallone particolarmente bloccato che a forma di elfo vi consente comunque di risparmiare tra virgolette i vostri tendini d'achille. In sintesi il design è stato pensato più che per controllare il vostro piede per indirizzarlo in maniera efficace cosa che funziona bene soprattutto se il podista che utilizza questa scarpa non è davvero un pronatore molto accentuato. La schiuma poi è in eva, è con densità diverse, è sicuramente più secca rispetto a quella delle Clifton in particolar modo delle 8 ma anche delle 7. La struttura come al solito è Meta Rocker, struttura di cui abbiamo parlato mille volte qui sul canale che consente a noi podisti amatori di non avere problemi particolari al tendine perché è a forma di barchetta. Quello che invece è interessante sapere è che il battistrada è particolarmente solido questo, contrariamente al solito, vi permetterà di correre tantissimi chilometri senza dover necessariamente vedere la gomma usurata dai chilometri stessi. Aspettiamo comunque 500 chilometri, sembra che nel utilizzo Andrea non abbia avuto problemi. Inoltre il design favorisce le corse particolarmente lunghe e soprattutto il fatto che questa schiuma sia un po' più densa vi permetterà di affrontare anche distanze più impegnative e proprio per questo viene utilizzata in maniera molto efficace da coloro che amano e prediligono correre corse ultra. Tra l'altro sarebbe particolarmente succoso se vi iscriveste al canale anche perché nei prossimi giorni faremo ulteriori recensioni OCA in particolare le Bondi 7 ma soprattutto una vera sorpresa e non so se la prenderemo di colore verde. Ora come al solito lascio la parola al prodepodista sono curioso di capire se sarà amore a prima vista nel frattempo voi stay strong, keep running ci vediamo alla prossima e comunque correte anche a 40 gradi. Ciao! Buongiorno Andrea, non farti distrarre in questo caso non c'è il coniglio ma l'uccelino che tra l'altro si chiama Peter non farti distrarre dall'uccelino ma oggi per la prima volta recensiamo le Harari di cui avevamo fatto l'unboxing qualche settimana fa avevamo promesso che se avessimo raggiunto un certo numero di chilometri poi le avremmo fatte. Cosa ne pensi di queste scarpe? Allora che sono delle scarpe antipronazione ma che van bene anche per chi non prona tant'è che mi sono trovato molto bene anche io secondo me hanno la particolarità fondamentale che sono scarpe antipronazione ma l'inserto antipronazione non dà grossi problemi all'interno del piede perché ho provato altre scarpe antipronazione che davano poi a lungo andare un problema all'interno del tallone o fiacche invece in questo caso vesciche perché noi a Milano le chiamiamo fiacche invece in giro per il mondo si chiamano vesciche in queste qua invece no non si sente lo scalino dell'inserto antipronazione si sente solamente che ti aiuta diciamo ti sostiene un attimino ma non è invasivo. E secondo te a chi sono adatte queste scarpe? Ma fondamentalmente sono scarpe un po' per tutti i neutri che vogliono fare distanze lunghe quindi magari invece più che una scarpa estiva la diremmo una scarpa un po' più invernale quando magari prepariamo mezzo maratone o comunque aumentiamo i carichi di lavoro sicuramente sono scarpe per pronatori meglio se lievi pronatori ho visto dei super pronatori con queste qua non erano bellissimi da vedere comunque cedevano abbastanza sono scarpe secondo me anche per neutri ma che pesano abbastanza quindi anche per degli oversize non sono scarpe male per loro perché comunque essendo oversize comunque un pochino di pronazione ce l'hai e soprattutto sono scarpe abbastanza pesanti quindi ammortizzate quindi va bene anche per chi ha un peso importante E secondo te quale dovrebbe essere il peso massimo del podista amatore e soprattutto a che ritmi le utilizzeresti? Sto pensando che secondo me anche sugli 80-85 kg potrei usarle se non dovessi andare sulle bondi potrei provarle se penso sopra gli 80-85 kg dubito che riesca ad andare più forte di 5,30 km a meno che sia alto 2 metri allora è longilineo però diciamo che per un oversize van benissimo e van benissimo anche a velocità poco sostenute diciamo che io le usavo tranquillamente a 4,30 km non le sentivo di impedimento secondo me fanno meglio il lavoro a ritmi più lenti invece per quale distanze le utilizzeresti? ma guarda distanze per tutte secondo me per i neutri danno il meglio di loro sulle distanze più lunghe perché ci aiutano poi nella parte un pochino quella finale dove proniamo comunque un attimino per la stanchezza ci sostengono ma comunque le userei anche nelle corse più corte perché tanto è un inserto davvero che non dà così tanti problemi secondo me ha senso usarle anche nelle corse più lenti e invece che sensazione hai avuto a livello di intersuola? sappiamo che è un'intersuola particolare sicuramente per i pronatori serve qualcosa di più, tra virgolette, duro cosa ne pensi? ma ti ripeto l'intersuola non è male non è leggera come le Clifton sicuramente è una scarpa un po' diversa forse ricorda le vecchie Clifton ma proprio le prime prime perché adesso comunque sono leggerissime sembrano delle nuvole dicevo che lì si vede che le faccio rivedere questa parte qua di intersuola è di una mescola diversa è di un colore anche diverso si vede che qua è molto più morbida mentre il qua è più dura però ripeto non danno fastidio sembra che sia un bel pezzo di scarpa di intersuola che sia fatto in questa mescola un po' più dura e quindi non senti proprio lo scalino dell'inserto antipronazione parlando dell'inserto antipronazione a livello di lunghi che sensazione hai avuto? so che non hai corso 40 km ma comunque qualche lungo l'hai fatto no ho fatto qualche lungo ma poi soprattutto ho fatto sempre una, due, tre corse una dietro l'altra e non mi hanno portato nessun tipo di problema nel frattempo ti sei fatto distrarre dal mio canarino cosa ne pensi dell'inserto antipronazione? che fa il suo lavoro senza essere invasivo quindi secondo me è super bravissimo perché davvero non l'ho sentito durante le corse il che è fondamentale perché tante volte dà il problema al tallone e a livello di durata questa scarpa sappiamo che secondo alcuni è il tallone di Achille e di Hoka cosa ne pensi? ma guarda ti dirò mi sembra più solida rispetto alle altre Battistrada si è consumato pochissimo e l'intersuola essendo di una mescola un po' più dura rispetto a quella della Clifton o delle Rincon secondo me durerà di più che poi la verità è che alla fine anche le Clifton e le Rincon per dire duravano i loro 800 km e 600 questa qua secondo me è gli 800 km ma per qualche pazzo potrebbero durare anche un po' di più per i pronatori secondo me avranno vita lunga di solito le scarpe di pronazione si scaricano un po' prima ma con l'inserto invece questa qua mi sembra che sia abbastanza durevole a livello di calzata come l'hai sentita? stesso numero delle Clifton e delle Rincon oppure mezzo numero più piccolo? no direi stesso numero delle Clifton e delle Rincon vestono comode sicuramente hanno una pianta un pochino più larga rispetto alle Clifton 7 o le Rincon ma direi che sono anche un attimino più comode per coloro i quali dovessero per la prima volta passare a Hoka cosa suggerisci come adattamento? se è la prima scarpa che prendono in casa a Hoka secondo me non si troveranno malissimo perché non è una scarpa estrema non è una corsa che mi fa correre di avampiede è una buona scarpa perché se tallono comunque è abbastanza protetta se invece corro di mesopiede è abbastanza protetta anche lì e mi aiuta nella corsa non è una corsa obbligata di tallone come altre scarpe è una scarpa che non ha bisogno di adattamenti come potrebbe essere una Rincon a livello di battistrada hai detto che praticamente la gomma si è consumata usurata molto di meno che sensazione hai avuto? che siano davvero delle mescole diverse infatti spero che l'intersuola e il battistrada venga messo anche sulle prossime Clifton quindi per farle durare un attimino di più l'altra cosa che mi viene il dubbio è che magari essendo un'intersuola così un pochino più dura con quel battistrada durano un pochino di più i mesi insieme non lo so, l'unica cosa che mi sono chiesto e risposto perché in effetti sembra che duri molto di più che sia un battistrada di una mescola diversa rispetto alle Clifton e alle Rincon quali sono secondo te i pregi e difetti di questa scarpa? beh due pregi fondamentali il primo che sono comode da indossare e l'altro che è assolutamente non invasivo l'inserto antifronazione come ho detto prima secondo me è fondamentale perché ripeto su tante altre scarpe senti lo scalino invece qua non lo senti e quindi benissimo il lato negativo potrebbe essere che comunque per dei forti pronatori non vanno benissimo perché comunque c'è dono abbastanza quindi da lieve pronatore al neutro man bene per l'iper iper pronatore malino invece ultima domanda quando faremo la recensione delle Bondi 7 che avevamo promesso qualche settimana fa? c'è stato qualche piccolo intoppo da parte mia adesso se avete finito di fare le foto io ci prendo e ci esco praticamente tutti i giorni abbiamo qua le leenda e farò 400 km alla settimana ma dovresti fare neanche 500 perché comunque abbiamo tipo 10 scarpe ancora da recensire quindi ti aspetto volentieri alla pista di Garbagnate dove ovviamente vado molto frequentemente vabbè vediamoci e facciamo i video c'è il pallino fisso di questa pista così bella quel tartano è ormai diventato cemento piace solamente a te praticamente va bene grazie Andrea ci vediamo alla prossima